Movedi, movedi, movedi dillis vloggit, ma chiede, guarda con me, dacci sa usamo, donambi, a Muvedi, movedi dillis, stopt, ma chav aw Micova libera l kitchen moer i Vin� Ronnella, a Sì, non è vero, non è vero. Sì, sei che se stia? Ne ha gridato, non è vero? Sì, siamo va! ohne a non tenuto la voce. Fa la rocca iniziare. Adesso non ti età. Non ti credo che mi è dita. Non è vero, non è vero! Non è vero che sia facile, non si è vero. Il questo è stato raiorizzato da un'espaque, e invece non è stato raiorizzato. Non c'è un'espaque, non è raiorizzato, ma non è andoso. Non è andato, non è andato. Andato, non è andato. È andato, non è andato. Mi viene subito in un nome, ma non è andato, non è andato. urenci, vediò dynamic, csуем quello vedo qui è verdade ci ha aviam il ridotto dell'oscelerato rè Presidente bevele Il guida è l'articolo. C'è un bel bel dazzaro. Ecco, non ti dai? ... C'è un bel dazzaro. ... ... ... Non è stato di più. Come ti senti, non è stato un cartone picante. Vizcu non è qua, non è stato un pallone. Non è stato un pallone, sono un pallone tagliato. lo spiello Cuo e Una vecch차. E' un po' chec'è un po' chec'è? …e non sei il barato… …è il barato… …e non so… …lo più inizia… …e non è… …e che mi ha detto… …e che? …e che? …e che io? …uoi, le cose che ci vuole… …le cose che… …e questo è… …e quello… …e una via... …e una via… …e la via… …e la via… …e che… …e prima... …a via… …e ye… …e l'anima… …eo… ieri da venia a questo vero che io dalla cinza ma ferma a tutti ieri che ci sono ancora di cammino e la prima delle donne sono iniziative a fare il questo ci sono il fatto il fatto che quale bisogna bianca qui va a notare Questo è lo stesso, perché è il nostro amore, ma è stato rilasciuto scattare le loro Questo mi sono fatto da tutte le loro con il nostro amore, ma questo è il nostro amore e il nostro amore è un amore il nostro amore il nostro amore e la luce di freddo e la luce della cacciata e il corpo e la luce di freddo e la luce è iniziare e il nostro non lo so non si è non lo so non lo so che è sono si 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 Ahre, ari, ari, addi ari, addi ari. Alla, ci sono tutti i safari fanno a ora, di fanno qua, lo solleva con ci i bai ha detto. Dasvo ciò che abbiamo fatto. Noi ne sono Andi qui ne sono, a una gara di un po' e del tipo. Il tipo di questo è un po' di un po' percire, penso che siamo in un po' di un po' di un po' C'è chi rosa, mi sapevamo che la straccia, come mi sapevamo a sverare qui andate. Dudu, 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 chami, chami. Non c'è, non c'è chi rosa. a 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